Aveva messo a segno una serie di truffe agli anziani con la tecnica del falso arresto, ma è stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato. Si tratta di un 24enne ritenuto dagli inquirenti irresponsabile di svariate truffe con una tecnica piuttosto consueta. Alla vittima, in prevalenza anziani, arriva una telefonata e la minaccia che i figli possano finire in galera se non viene pagato un fantomatico avvocato, quest'ultimo disposto a raggiungere la vittima della truffa presso la sua abitazione per ritirare soldi e gli eventuali oggetti preziosi necessari a pagare la somma di denaro. L'ultimo caso, in ordine di tempo, era accaduta ad una vedova agli 87 anni di Santa Margherita Ligure, costretta per salvare i figli arrestati per averla combinata grossa a consegnare tutti i suoi averi, compresa la fede del marito ai truffatori. Una volta venuta a conoscenza di quanto accaduto, è stato il figlio ad accompagnare la madre a sporgere denuncia. Sono quindi partite le ricerche del 24enne e sono state allertate anche le pattuglie della Polizia Stradale di Firenze e Arezzo che, coordinate dal Centro Operativo Polizia Stradale, hanno intercettato lungo l'autostrada del Sole un'auto sospetta, una Fiat 500L. L'auto è stata fermata alla guida Cerel 24enne, all'interno del cruscotto dell'auto occultato tra i cavi elettrici, un involucro contenente 36 monili in oro, tra cui anche la fede nuziale della signora, un orologio Rolex e 5.700 euro in contanti. Gli oggetti ed il denaro sono stati sequestrati ed il giovane, con precedenti penali, è stato denunciato.